andiamo qua sulla cascata da 100 il piccolo franky sta per tuffarsi forte coraggio frank vai vai mi sa che non basta franky non aveva dentro 80 metri di corda e non è arrivato giù non è arrivato giù non è arrivato giù non è arrivato giù questo è il canale andiamo bene E' cambiata da 25.50 Vale Allora, Massimilio è su casa con due multimonti Faccia una cascatella Arriva un pozza e qua Sparisce il mondo Da giù c'è il lago però 35.30-4 metri Ma il bello arriva adesso Bella Max Dove sta andando Massimilio? Vado a scendere giù fino là Massimilio un po' meno strato E' altissimo Ma quanta ne hai da recuperare Pete? Finisce giù 40 metri Oh, 40 metri Oh, che torno in palestra Oh, 40 metri Sì, è un po' meno strato Grazie a tutti.